Nel DSM 4 si usava il termine disturbi somatoformi, termine che creava confusione e sovrapposizione con altri disturbi mentali. Così nel DSM 5 è stato sostituito con disturbo da sintomi somatici e disturbi correlati. In questo capitolo troviamo tutti i disturbi che hanno come caratteristica l'esistenza di sintomi somatici che preoccupano l'individuo e lo fanno concentrare su questi, compromettendo così in modo più o meno grave il funzionamento dell'individuo stesso. Un'altra caratteristica di questi disturbi è la ricerca di aiuto per risolvere i sintomi somatici che avviene prevalentemente in strutture mediche e non in strutture per la cura della salute mentale, nella convinzione che tali sintomi somatici abbiano un'origine biologica. I disturbi presenti nel capitolo sono disturbo da sintomi somatici, disturbo da ansia di malattia, disturbo di conversione, anche detto disturbo da sintomi neurologici funzionali, fattori psicologici che influenzano altre condizioni mediche, disturbo fittizio, disturbo da sintomi somatici e disturbi correlati con altra specificazione o senza specificazione. Come potete notare non c'è più l'ipocondria come disturbo e uno potrebbe pensare che sia stata sostituita dal disturbo da ansia di malattia. In realtà circa il 75 per cento dei soggetti a cui era stata posta diagnosi di ipocondria soddisfa i criteri per il disturbo da sintomi somatici e solo il 25 per cento quello di disturbo da ansia di malattia. Questo è importante saperlo in modo da non sovrapporre erroneamente l'ipocondria con il disturbo da ansia di malattia, cosa che viene spesso spontanea. Vedremo adesso nello specifico i criteri diagnostici per entrambi i disturbi così da fare maggiore chiarezza. Iniziamo con il disturbo da sintomi somatici che è un disturbo caratterizzato da uno o più sintomi somatici che procurano disagio o portano ad alterazioni significative della vita quotidiana per almeno sei mesi e sono accompagnati da pensieri sproporzionati e persistenti circa la gravità dei propri sintomi. Livello costantemente elevato di ansia per la salute o per i sintomi. Tempo ed energie eccessive dedicati a questi sintomi o a preoccupazioni riguardanti la salute. Questo disturbo può avere una gravità che va da lieve moderata a grave. C'è lo specificatore con dolore predominante, in precedenza era chiamato disturbo algico, quando i sintomi somatici sono accompagnati da dolore. C'è anche lo specificatore persistente quando i sintomi sono gravi e per sì sono per più di sei mesi, con una marcata compromissione del funzionamento del soggetto. I sintomi possono essere specifici, ad esempio il dolore localizzato in un punto del corpo, oppure aspecifici, ad esempio un senso di spossatezza o un malessere generale. È importante sottolineare che in questo disturbo i sintomi somatici sono autentici, quindi vengono vissuti veramente dall'individuo, a prescindere che ci sia una spiegazione medica o meno. Il soggetto non sta mentendo, sta veramente soffrendo a causa di quei sintomi che, ripeto, possono essere associate ad un reale problema medico o meno. Questo non importa ai fini della diagnosi. L'esistenza di un problema medico non esclude una diagnosi di disturbo da sintomi somatici, perché possono coesistere insieme. La preoccupazione rispetto ai sintomi somatici percepiti come minacciose è molto alta, tanto che il soggetto è spinto a consultare le strutture mediche nella convinzione che ci sia un problema medico alla base. Quando però il medico prescrive la cura, il soggetto con questo disturbo può non credere alla diagnosi del medico e ricercare nuovi consulti, oppure sottoporsi a trattamento senza risultati. Infatti molte persone con questo disturbo non rispondono bene alle cure mediche e alcuni di loro sono anche sensibili agli effetti collaterali dei farmaci. Se poi il medico rassicura il paziente, sostenendo che non ci sia una base organica nei sintomi somatici, ma che questi siano connessi ad un disagio psicologico, il soggetto può non crederli e non sentirsi preso sul serio dal medico, ricercando così nuovi pareri per ricevere una diagnosi a suo parere più adeguata. La prevalenza del disturbo non è nota, ma si stima che possa essere tra il 5 e il 7% nella popolazione generale adulta, con una probabile maggiore frequenza nelle femmine. Vi è una differenza tra culture e gruppi etnici nella valutazione dei sintomi somatici, tanto che si parla di idiomi del disagio, in quanto nei diversi contesti culturali i sintomi somatici possono avere significati speciali e danno forma alle interazioni paziente medico. È un disturbo che può colpire anche i bambini con sintomi comuni quali dolore addominale, mal di testa, spossatezza e nausea. Generalmente i bambini presentano un solo sintomo somatico, però contrariamente all'adulto, che può presentarne più di uno contemporaneamente. Vediamo ora i fattori di rischio. I fattori di rischio sono fattori temperamentali, soprattutto il neuroticismo, fattori ambientali genetici, il sesso femminile più a rischio, età avanzata, scarsa scolarizzazione, basso status socio-economico, disoccupazione, una storia riferita di abuso sessuale o altre avversità durante l'infanzia, una concomitante malattia organica cronica o un disturbo psichiatrico, stress sociale. Vediamo ora le caratteristiche più frequenti in soggetti con questo disturbo. La preoccupazione legata ai sintomi somatici può portare il soggetto a controllare il proprio corpo ripetutamente per rilevare segni di eventuali malattie o anomalie. Data la forte preoccupazione, il soggetto evita le attività fisiche per paura di peggiorare i sintomi. Inoltre la qualità di vita è compromessa chiaramente e nei casi più gravi il disturbo è completamente invalidante. Questa preoccupazione costante sui propri sintomi somatici porta ad una compromissione del funzionamento dell'individuo in diverse aree, da quella sociale fino a quella lavorativa. Il disturbo da sintomi somatici è spesso in comorbilità con disturbi medici, disturbi d'ansia, disturbo depressivo con aumentato rischio di suicidio. La diagnosi differenziale può essere riposta con il disturbo di panico. In questo disturbo i sintomi somatici tendono a verificarsi durante gli episodi acuti, mentre nel disturbo da sintomi somatici i sintomi sono persistenti. Poi con il disturbo d'ansia generalizzata, in questo disturbo il soggetto ha ansia rispetto a diverse cose, tra le quali ci può essere anche la salute, ma non è solo questa. Mentre nel disturbo da sintomi somatici la preoccupazione è specifica sui sintomi somatici, quindi sulla salute. Poi abbiamo il disturbo d'ansia di malattia, questo disturbo è accompagnato da sintomi somatici minimi o assenti, adesso lo vediamo, mentre nel disturbo da sintomi somatici i sintomi sono presenti e persistenti. Poi abbiamo il disturbo di conversione, in questo disturbo il sintomo manifestato è legato al funzionamento di una parte del proprio corpo, ad esempio un arto, mentre nel disturbo da sintomi somatici il focus è incentrato sul disagio provocato dai sintomi somatici. Infine si può porre con il disturbo depressivo maggiore, in questo disturbo ci possono essere dei sintomi somatici, ma per la diagnosi è necessario sia presente umore depresso e marcata diminuzione degli interessi. Passiamo ora a vedere il disturbo d'ansia di malattia, che è un disturbo nuovo inserito all'interno del capitolo sul disturbo da sintomi somatici e disturbi correlati, anche se il DSM-5 sottolinea che poteva essere anche inserito all'interno dei disturbi d'ansia. La task force ha preferito inserirlo in questo capitolo per le due caratteristiche comuni di tutti i disturbi da sintomi somatici, ossia il fatto che ci siano preoccupazioni somatiche e che gli individui con questi disturbi ricercano aiuto in strutture mediche e non di cura mentale, nella convinzione che i sintomi abbiano natura biologica. Questo disturbo è caratterizzato dalla preoccupazione di avere o contrarre una grave malattia. I sintomi somatici non sono presenti o, se presenti, sono solo di lieve intensità. Se è presente un'altra condizione medica o vi è un rischio elevato di svilupparla, la preoccupazione è chiaramente eccessiva o sproporzionata. È quindi un disturbo caratterizzato da un'eccessiva ansia per almeno sei mesi nei confronti della propria salute, senza però sintomi somatici che possono fare pensare che la salute sia minacciata in qualche modo da una malattia. Questo porta l'individuo ad attuare dei comportamenti atti a verificare il proprio stato di salute, tra i quali un ripetuto controllo del proprio corpo per vedere se ci sono anomalie e ad interpellare diversi medici per appurare di non avere una malattia. Questo in questo caso lo specificatore è il tipo richiedente l'assistenza. In alcuni casi si può invece verificare un comportamento di evitamento del controllo medico per l'eccessiva preoccupazione di avere una malattia. Lo specificatore in questo caso è di tipo evitante l'assistenza. Come abbiamo specificato prima, i soggetti che precedentemente avevano la diagnosi di ipocondria sono ora nel 75% con disturbo da sintomi somatici, mentre solo nel 25% con ansia di malattia. In entrambi questi disturbi il soggetto tende ad interpellare strutture mediche piuttosto che strutture per la cura della salute mentale e, come per il disturbo da sintomi somatici, spesso le rassicurazioni dei medici non bastano a plagare la preoccupazione dell'individuo che non si sente preso sul serio e ritiene che i medici interpellati siano incompetenti. La prevalenza di questo disturbo non è nota, ma si può ipotizzare vari tra il 3 e l'8% della popolazione, con uguale frequenza tra maschi e femmine. L'ipotesi di età di insorgenza è la prima età adulta e la mezza età. Si pensa che il disturbo sia raro nei bambini. Da un terzo a metà degli individui con questo disturbo presenta una forma transitoria e fortunatamente meno grave. I fattori di rischio sono prevalentemente ambientali, legati a forte stress, minaccia di salute per l'individuo con esito benigno, una storia di abuso, grave malattia durante l'infanzia. Vediamo ora le caratteristiche più frequenti dei soggetti con questo disturbo. Innanzitutto è un disturbo che causa una notevole compromissione del funzionamento dell'individuo, specie a livello interpersonale e professionale. La loro preoccupazione è talmente eccessiva che arrivano a preoccuparsi di avere le malattie solo sentendo che qualcun altro è malato o sentendo notizie legate alla salute, per esempio sentendo che ci sono stati casi di meningite in Italia. Tendono a fare ricerche eccessive sulla salute, su diverse malattie, anche utilizzando canali non istituzionali come i forum su internet. Ricercano spesso la rassicurazione di familiari e amici sul proprio stato di salute senza però ottenerla e questo porta spesso a tensioni nelle relazioni. L'isturbo d'ansia di malattia è un disturbo nuovo, come abbiamo detto, del DSM-5 per cui non si conoscono bene i disturbi in comorbidità, anche se si può ipotizzare siano i disturbi d'ansia e i disturbi depressivi come lo era per l'ipocondria. La diagnosi differenziale si può porre con altre condizioni mediche, bisogna verificare se non sussistano veramente delle condizioni mediche sottostanti come malattie neurologiche o endocrine, i tumori occulti e altre malattie organiche sistemiche. Attenzione però, la presenza di una condizione medica non preclude una diagnosi di disturbo d'ansia di malattia, quando l'ansia e la preoccupazione legate alla malattia sono sproporzionate rispetto alla sua gravità. Poi si può porre con il disturbo da sintomi somatici, perché questo disturbo viene diagnosticato in presenza di sintomi somatici, mentre il disturbo d'ansia di malattia può presentare sintomi somatici minimi o addirittura assenti. Poi con i disturbi d'ansia, nei disturbi d'ansia tipo generalizzato, di panico, eccetera, l'ansia e la preoccupazione non sono solo legate alla paura di avere una malattia. Oppure si può porre una diagnosi differenziale con il disturbo ossessivo compulsivo. Nel DOC possono esserci pensieri ossessioni legate alla propria salute, solitamente incentrate sul timore di incontrare una malattia in futuro, mentre nel disturbo d'ansia di malattia la preoccupazione è di avere già nel presente una malattia. Passiamo ora al disturbo di conversione, anche detto disturbo da sintomi neurologici funzionali, che è un disturbo caratterizzato da uno o più sintomi di alterazione della funzione motoria volontaria o sensoriale. Tra i sintomi motori troviamo per esempio debolezza, paralisi, tremori, problemi nella deambulazione e nella postura degli arti, ridotto assente volume della voce, disfonia, afonia, eccetera. Tra i sintomi sensoriali troviamo per esempio sensibilità tattile, visiva o uditiva alterata, ridotto assente e proprio in virtù dei sintomi presenti esistono i seguenti specificatori. Con debolezza o paralisi, con movimento anomalo, per esempio tremore, movimenti distonici, mioclono, disturbi della deambulazione, con sintomi riguardanti la deglutizione, con sintomi riguardanti l'eloquio, per esempio disfonia, biascicamento, con attacchi epilettiformi o convulsioni, con anestesia o perdita di sensibilità, con sintomi sensoriali specifici, per esempio problemi visivi, olfattivi o uditivi, con sintomi misti. La prevalenza del disturbo è sconosciuta anche se si sa che è più frequente nelle femmine e l'esordio può avvenire a seguito di un forte stress o trauma psicologico o di natura fisica. Il decorso può essere cronico, con una notevole disabilità, oppure può risolversi completamente, specie nei bambini più piccoli. I fattori di rischio sono temperamentali, soprattutto tratti di personalità disadattivi, ambientali, quando c'è una storia di abuso infantile e di trascuratezza, genetici e fisiologici, perché quando c'è una presenza di una malattia neurologica in famiglia si è più a rischio di avere un disturbo di conversione. Il disturbo di conversione può essere in comorbidità con sintomi dissociativi, come la depersonalizzazione, derealizzazione e l'amnesia dissociativa, disturbi d'ansia, soprattutto il disturbo di panico, disturbi depressivi, disturbo da sintomi somatici, disturbi di personalità. La diagnosi differenziale si può porre principalmente con una malattia neurologica che potrebbe spiegare i sintomi presenti nell'individuo. Attenzione perché il disturbo di conversione può coesistere con una malattia neurologica nel momento in cui i sintomi sono sproporzionati rispetto alla gravità della malattia. Passiamo ora ai fattori psicologici che influenzano altre condizioni mediche, che è un disturbo caratterizzato dall'esistenza di una condizione medica e dalla presenza di fattori psicologici e comportamentali che ne influenzano significativamente il decorso e il trattamento, aggravando i sintomi ed esponendo l'individuo a maggiori rischi per la salute, per esempio ritardata guarigione, sofferenza, disabilità fino ad arrivare alla morte. Le condizioni mediche possono essere tra le più svariate, da malattie come il diabete, il cancro, una malattia cardiaca oppure sindromi funzionali quali emicrania, sindrome del colon irritabile o sintomi clinici idiopatici come dolore, spossatezza e vertigini. In un soggetto con questo disturbo l'ansia può per esempio aggravare l'asma oppure il soggetto può negare la propria condizione medica o ignorare i sintomi di un attacco cardiaco. La prevalenza di questo disturbo non è nota ma si pensa sia più comune rispetto al disturbo da sintomi insomatici. L'esordio può avvenire in qualsiasi età. Ci sono numerose differenze culturali riguardanti la lingua e lo stile di comunicazione, i modelli esplicativi della malattia, le modalità di richiesta di assistenza sanitaria, la disponibilità e l'organizzazione dei servizi, il rapporto medico-paziente e le altre pratiche di cura, i ruoli familiari e di genere e l'atteggiamento verso la sofferenza e la morte. La diagnosi differenziale si può porre con i disturbi dell'adattamento perché in genere modalità psicologiche o comportamentali che si mettono in atto a seguito di una condizione medica possono rientrare all'interno di un quadro di disturbo dell'adattamento se ovviamente vengono risolti entro sei mesi dall'evento stressante che in questo caso è la diagnosi della condizione medica. Infine vediamo il disturbo fittizio che è un disturbo caratterizzato dalla falsificazione di segni o sintomi fisici o psicologici oppure dall'induzione di un infortunio o di una malattia provocato a sé o ad un'altra persona. Infatti il disturbo fittizio si divide in due tipologie, il disturbo fittizio provocato a sé dove è il soggetto stesso che si presenta agli occhi degli altri come malato, infortunato o ferito e il disturbo fittizio provocato ad altri dove il soggetto con il disturbo presenta un'altra persona come malata, menomata o ferita. La caratteristica principale di questo disturbo è l'intenzionalità della falsificazione o dell'induzione di un infortunio o di una malattia. La persona provoca intenzionalmente l'infortunio e intenzionalmente sostiene di avere sintomi che in realtà non ha. Questo comportamento ingannevole è palese anche in assenza di evidenti vantaggi esterni. Il criterio dell'intenzionalità e quello dell'assenza di evidenti vantaggi esterni sono fondamentali per porre una diagnosi di disturbo fittizio. Il soggetto con questo disturbo può inventarsi di sana pianta, segni e sintomi propri o di un'altra persona. Può esagerare una condizione medica esistente oppure può indursi o indurre in altre persone una condizione medica come un infortunio delle ferite. Tra gli esempi del DSM-5 vi è la possibilità che il soggetto falsifichi le cartelle cliniche, cambi i risultati di un test di laboratorio, per esempio aggiungendo del sangue nel campione delle urine o delle feci, ingerisca sostanze per indurre i medici a porre diagnosi di una certa malattia, si procure lesioni o traumi. L'isturbo fittizio provocato ad altri può essere perpetrato da parte di una madre o di un padre nei confronti del proprio figlio, inventando segni e sintomi o casandoli ferite, traumi e mettendo a repentaglio la salute psicofisica dello stesso. Questo è un vero e proprio comportamento criminale che però non esclude la presenza del disturbo. Infatti comportamento criminale e disturbo fittizio provocato ad altri non si escludono a vicenda. È chiaro che un soggetto con questo disturbo ha una compromissione significativa del funzionamento in diverse aree, tra le quali quella sociale e familiare. Gli SM5 specifica che i disturbi fittizi hanno somiglianze con il disturbo da uso di sostanze, i disturbi dell'alimentazione, i disturbi del controllo degli impulsi, disturbo pedofilico e alcuni altri disturbi accertati legati sia alla persistenza del comportamento disturbato sia agli sforzi intenzionali di nascondere con l'inganno tale comportamento. La prevalenza del disturbo è dell'1% con esordio tipico nella prima età adulta, spesso a seguito di un ricovero per una condizione medica o un disturbo mentale ed è generalmente caratterizzato da episodi intermittenti. La diagnosi differenziale si può porre principalmente con la simulazione di malattia in quanto quest'ultima ha un secondo fine, ad esempio il denaro, il congedo per malattia che il disturbo fittizio non presenta.